Allora, facciamo una cosa importantissima adesso Alziamo la webcam Perché sto alzando la webcam, ragazzi? Perché quando uscirà l'arma, perché l'arma uscirà Parola di scout Cioè, io mi ammazzo se non esce là È la terza volta che faccio questa missione Quando uscirà l'arma, dovete vederla Perché io ci faccio un video Sul culo che avremo oggi Io non capisco Ah, qui se ne stanno andando Ma dove ne affanno Qua non se non me lo mai Grandissimo Grandissimo Via Via Vaffanculo Quei bastardi che se ne sono andati Ehi, facevo sotto quattro round Ma vaffanculo La devo costruire Vaffanculo Vabbè, la costruiamo Non è un problema Non è un problema Questa è una delle armi più forti Che c'ho attualmente nel gioco La c'è Ed è rarissima Da ottenere Che culo Io pensavo Ci avremmo messo Un po' di più Invece avremmo messo Una mappa Che culo Che gagne Nooo C'è la mia faccia davanti Nooo Nooo Eccole Eccole Nice Ciao a tutti Oh Buono A pranzo Sono bene a mangiare Dal giapponese Mi sono ringozzato Non ho mangiato tantissimo Quindi la mia cena E' questa Ho preso l'account di Warframe Con Steam Quindi adesso Incredibilmente Vedo anche le Tenogen Non loggerò ogni giorno Con questo Perché Vi ripeto Il mio account di Di Steam Lo usa anche un amico Abbiamo dei giochi in comune Però E' bello No? Sapere che Ci sono tantissime Fantastiche skin Che non comprerò Perché costano soldi Comunque Rex Ho capito Gli avete una pausa Di due settimane Da Warframe Per tornare su LOL Sbaglio Imperdonabile Lo capisco Lo capisco Eccolo Grazie mille ragazzi Fantastico Mi trovi sul salone Di Discord Ok Quando comincio A fluttuare In quel modo Con quel colore Arancione Giallo Viola Verde Tutti i colori Dello spettro luminoso Fate più kill Che potete Perché è allora Che il cuvoli Potrebbe manifestarsi Tutti l'arma Che usate Perché Ecco Adesso l'abbiamo Già creato Ed è lui Kuva Larving Ragazzi Il bot Mi ricorda Di ricordarvi Altrimenti Potrei non ricordarlo Che devo ricordarvi Ricordandolo Ovviamente Lasciatelo a terra Ah sono morto Anche questo Servevi da più Su un limbo Giusto What a culo Ragazzi Che culo Che culo Ma veramente Ma io esci di mio Mi rifiuto Che culo Sculato di melma Madonna Santa Mamma mia Veramente Proprio C'è sul vocabolario La voce culo Ci sta Ve l'ho detto Ve l'ho detto Dovete credermi Ragazzi Domani Devo un po' Del tuo culo Per trovare Lo chassis Di Wisp Guarda È un peccato Che non posso Passarli Lasagna Perché Ne ho a BZ Minchia Lasagna Sai c'è lo stesso Problema tuo Io Porca lattuga C'è lo stesso Di problema tuo Con lo chassis Della cappera Di Wisp Andiamo adesso A fare una Veri bicchiere di beer Qui c'è davanti Potete Assolutamente Ragazzi Assolutamente Alla tua Lasagna E alla vostra In generale Ciao ragazzi Io sono Marco E sono Un alcolista Dici Marco Che Come mai Sono un alcolista Mi facevano bene I live I membri Della mia community Sono pessimi Mi facevano Sono dei cavalli Sono delle brutte persone Se vi droppa lo chassis Giuro che mi sparo Spero di non droppare lo chassis Perché Ci tengo Alla mia community Lasagna No non voglio perdere un follow No non voglio che tu muoia Chi se ne prega del follow Ma non muovire Vai adesso Sono però a scendere e risalire C'è il topo No Premi E F W K Tombola Tombola Premi Tombola Se la vostra tastiera Ragazzi Non è il tasto Tombola Avete pagato troppo poco Per averla E' proprio accanto A Shift Caps Lock E Alt F4 E' proprio un tasto Unico Ma sei Bagatissimo Proprio Ti vedo volare con lui Non vado a prendere E' provo a salirci io Vediamo se funziona Perché Warframe Un gioco non buggato Dai siamo in due glitch Tu tienilo per Aspetta vengo pure io E' ero troppo vicino No Ascoltami lasagna Dove se uscire lo chassis Tu promettimi che non farei una passata Grazie Vado a nasce Promettimi Qualunque cosa accade a lasagna Mi raccomando Non andai più avanti? No Ma siamo tutti qua Madonna mia Madonna mia Madonna mia Lo chassis Non ci credi E' uscito lo chassis No 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 Lasagna ti prego Lasagna No No Devi fare una cosa No Togli proprio la full of Cioè Togliono la full of Dov'è? No ma si sta buggatissimo E' buggatissimo a palla Proprio però Ma che succede oggi? Dov'è? Tipo i pipistrelli Si è attaccato E' attaccato al muro E' un pipistrello Vabbè Ma dove va? Ma dov'è? Eh si è suicidato Guardalo Si è buttato giù Ma come? Era caduto giù No 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 Stavo sciuando per terra Se non la conosci Ta devi guardare Stano te ho buttato un fiato No Quanto torno le puntate Panico Oh C'è sì C'è sì Io tra l'altro conosco Ben due Requiem Trovati ieri a culo Perché li ho trovi a culo Vediamo se abbiamo fortuna L'ultima volta Non è vero mai Stavo scherzando Ovviamente Easy Easy E nulla Abbiamo un altro Kuva Com Il terzo Questo probabilmente È il Kuva Più veloce Che abbia ucciso Nella mia intera storia Su Warframe Ragazzi è il mio giorno Vado a comprare Un biglietto della lotteria Appena finisce la live Perché oggi Sbanco lo stato italiano È uscita la hate E non c'è nessuno in chat Che mi dica Che un tuo curo hai È stranissimo E non c'è nessuno in chat